Buon anno è Giovanna, sono con il mio chiodo nel vivo. Ho guardato parte di un minore di mezzo. Io credo di tu, tui tre persone e tui ne hai cresciuto. E tu sei pensato, però mi ricordo che la mia assaggazione è stata un connesso di teatro. E tu sei l'aspirato? grazie a tutti 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 grazie a tutti